Buonasera, io sono Aziz Ammarawi, sono il presidente della associazione Nisse Etnica. È una associazione che è nata da poco, ma già nel nostro piccolo abbiamo già partito a dei grandi eventi, come questo Nisse Etnica, dove ci sono danze e musica e degustazioni di varie nazionalità. In totale sono 13-14 nazionalità. Ho voluto tirare su queste associazioni non per il fatto di essere un immigrato, anche se da poco mi è arrivata la bella notizia che sono itaro-marocchino, ma per l'amore che ho per questa terra. Come ben sapete, la Sicilia è stata dominata dagli arabi, dai normani, dai greci e dal mio punto di vista è la terra di incontro, di condivisione, che proprio scorre dentro il DNA siciliano. Come ben sapete, l'immigrazione ormai rappresenta una grande sfida per tutta l'Europa. L'integrazione è uno dei temi più caldi degli ultimi decenni in Italia. Spesso diventa persecutoria, fatta di un mondo progeniero, fatto di paura e anche di progettizio, purtroppo. L'opinione pubblica rischia di avere una visione distorta del fenomeno dell'immigrazione. Infatti anche i mass media intende di parlare dell'immigrazione solo nei casi gravi di emergenza, trascorando l'importanza dell'immigrato.